Prima del pranzo di Natale c'era lo scambio dei regali. Mamma, questo papà è molto carino. È bello, no? Non dovevate. Nonno, c'è anche per te. Mauro. La loggia centrale della basilica vaticana. Buon pranzo. Allora. È stato molto carino. Questa è che c'è l'olio. Guarda, sapete come... Eh? Auguri, papà. D'agli auguri, buon Natale. Ah! Ci parlano. Non siamo andati anche a sciare. Guarda come si fanno grandi, guarda, guarda. Dio, che bella. Sono anni che vado alla ricerca di una vestaglietta di questo colore e non sono mai riuscita a trovarla. Adesso arrivi tu. Grazie. Figurati. Splendita. Auguri. Elena, Elena, questo è perfetto. Aspetta, ecco anche il mio. Aspetta un attimo. Grazie. Eccolo. Dati auguri. Ah, non vuoi senta. No. Auguri. Grazie. Allora, ecco. E' così posso fare il completo? Ma che idea si è fatta? Non me l'hanno già fatto. Che cos'è? Quando parli, si muove. Ciao. Ti piace? Se vuoi te lo regalo. Grazie. Cucca. Lida, auguri, è un cavatatti, è un oggetto fine per gente di classe, ti piace? Hai esaudito un sogno? Tu non puoi capire quanto mi può essere utile questa pitta Adesso si compriamo subito perché è quasi ora di mettersi a tavola Sì, aspettate un momento Foto di gruppo, tutti pronti per il rito della fallografia Siamo pronti? Ecco qua, no, no, pronti, aspettate pure a me però, ecco qua Ci siamo tutti? No, no, che tutti, ce l'ho anche io, ecco, messi a fuoco, pronti Autoscatto, via Togliete, togliete, sorridete Ma mi ha preso proprio mentre mi giravo